Il libro Nero di Biondi, progetti strategici che avrebbero potuto cambiare il volto della città e che la destra non è stata in grado di realizzare. Il PD ha raccolto in un articolato dossier nove opere mai realizzate in sette anni di amministrazione, con fondi dirottati altrove in alcuni casi, ma sostanzialmente con 100 milioni di euro fermi. Progetto libiale della Croce Rossa con parcheggio, con fondi dirottati altrove, ora ritirato fuori ma solo con parcheggio, riducendo i posti. Parco urbano di piazza d'armi con risorse dirottate a Palazzo Margherita e 22 milioni di euro che rischiano di essere revocati, Santa Croce e Portabarete lasciati completamente all'abbandono. Tra qualche giorno appunto saranno sette anni dall'insediamento di questa amministrazione di centrodestra, che sette anni fa al momento dell'insediamento trovò alcuni progetti strategici di riqualificazione della città già progettati, già programmati e già finanziati. Noi parliamo di opere già finanziate. Si va da Viale Duca degli Abruzzi con il progetto di riqualificazione, il parcheggio interrato con il collegamento a San Basilio fino a Portabarete, passando per il parco urbano di piazza d'arte. Noi abbiamo ricostruito nove opere pubbliche, nove opere che avrebbero potuto cambiare il volto alla città per più di cento milioni di euro, cento milioni già finanziati che sono stati o spacchettati, quindi presi da una parte e poggiati, utilizzati da altre per l'incapacità di programmazione di questa amministrazione o addirittura sono completamente fermi. E ancora, sede unica del comune mai realizzata, con affitti che si continuano a pagare per oltre un milione di fitti, nonostante si abbiano 35 milioni a disposizione. Altra questione, l'ex ospedale di Colle Maggio, il Parco della Luna, con il comune che ha dimenticato il finanziamento di 10 milioni assegnati dall'Aggiunta d'Alfonso, per poi provare a recuperare le risorse quando non erano disponibili. Tra le incompiute Parco delle Acque, Portaleoni senza riqualificazione ma solo parcheggio, progetto sulle mura fermo e ciclabile della Terno, anche lì non si è realizzato nulla, attacca Nidem. Ne cito una, la sede unica per il comune. Si parla di sede diffusa, ma dov'è questa sede diffusa? Quei pochi uffici del comune portati in centro sono di fatto impossibili da raggiungere, sia per i dipendenti che per l'utenza. Quindi sono scelte che denotano un'assenza di strategia. Ieri il sindaco in Pompamagna ha riannunciato per l'ennesima volta che completerà il teatro, ma il teatro ancora lì. Alcune di queste questioni le abbiamo portate all'attenzione dell'amministrazione attraverso interrogazioni ed altro. C'è stata un'assoluta indifferenza e allora ecco che gli piazziamo il dossier. Grazie. 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 Grazie.